Buongiorno, benvenuti a questa segna stampa di oggi sabato 23 settembre. Vediamo subito quali sono i titoli più importanti di giornata. Forse la notizia più importante riguarda Beppe Grillo e le sue scelte sul Movimento 5 Stelle. Ce ne sono due o tre di notiziole, vediamo quali sono quelle che possiamo riassumervi subito oggi. La prima, quella forse più polemica, la fa il giornale quotidiano di Sallusti, oggi titolo a tutta pagina, va giù nei sondaggi. Il gradimento sarebbe sceso al 16%, il gradimento non ha nulla a che vedere con i voti che poi sono intorno al 28-30%, questo aggiungo io, quindi tra gradimento e voti c'è una bella differenza, anche perché chissà quanti gradiranno la lista di centrodestra della Sicilia, ma poi turandosi il Nato se la voteranno. Non penso che questo sia l'atteggiamento nei confronti del Movimento 5 Stelle, che resta un movimento un po' più convinto, penso, nel suo elettorato, però questo è secondo i sondaggi di Mannheimer. La cosa vera che riguarda il 5 Stelle non è tanto i sondaggi oggi, ma riguarda l'avvicendamento. Il titolo del Corriere della Sera è Tocca i giovani, io sarò un papà. Io non ci credo manco per niente perché quello è un partito, anche se fa finta di non essere un partito, con cui ci sono questi cacicchi locali, in cui la mancanza di un leader forte, come è stato Grillo e come è stato Casaleggio, quindi l'accordo Casaleggio-Grillo, e già la morte del vecchio Casaleggio ha creato dei problemi, senza un grande leader che tenga insieme quelle anime, molto diverse le une dalle altre, il partito si sfascia. Alla Kermesse di Rimini, dove verrà incoronato Di Maio, premier designato il Movimento 5 Stelle, Fico, che è il capo della vigilanza Rai, l'uomo più inutile della terra, almeno io così me lo ricordo quando ero in Rai, non ha alzato un dito, e forse non ce l'aveva neanche il dito, per potersi lamentare delle prevaricazioni dei renziani, è stato là zitto a fare pippa, semmai qualcuno che mi ha aiutato è qualche ex renziano come Ansaldi, paradosso dei paradossi, ma comunque Fico non si presenterà sul palco del Movimento 5 Stelle di Rimini. Ce ne faremo una ragione, se la farà anche Grillo, che mi sembra che se ne freghi altamente, se riesce a divorare piano piano i suoi, anche gli uomini che all'inizio gli davano maggiore lustro. Detto questo, l'uscita di Grillo, io ci credo poco, se così fosse sarebbe un bel problema per il Movimento 5 Stelle. Parliamo di cose, diciamo, ridicole da quelle invece un po' più serie, perché nel bene o nel male il Movimento 5 Stelle rappresenta il 30% della propria popolazione, ma chi rappresenta Laura Boldrini? Beh, secondo me non rappresenta una parte, diciamo, di quella sinistra boldriniana, come si suol dire, esiste e oggi Bracalini, mi diverte molto, racconta sul giornale la difficoltà della Boldrini di trovare un partito che se la candidi. Dice oggi Bracalini sul giornale, forse Pisapia, forse MDP che sarebbe il partito di Versani, Speranza e compagnia cantante, forse addirittura il PD, io non ci posso credere, se il PD candida la Boldrini, voglio dire, veramente può succedere tutto a questo mondo e qualcosa in effetti in questo mondo succede. Sapete chi è candidato? Oggi se ne occupa forse proprio il giornale, anche qui oggi è un altro bel pezzo del giornale, sapete chi si candida in Sicilia, in questo listone in cui mette dentro tutti, grazie all'abilissima regia di Miciche, che quello lo sa fare bene, il centrodestra di Musumeci, quello col pizzetto, sapete che è uomo della Meloni, insomma del centrodestra, diciamo ex AN, ex Miss, sarebbe meglio dire, ecco, il signor Granata. Fabio Granata non è infimo, è peggio che infimo, è un signore che quando ci litighi tu gli stringi, cerchi di stringerti la mano, neanche te la dà la mano. Leva la mano, mi disse una volta a me. E sapete su cosa mi disse leva la mano questo cretino di Granata? Perché lui diceva che l'affare di Monte Carlo era una barzelletta, perché lui era amichetto di Fini. Allora, l'idea che uno che racconta che questa destra sociale, che è quanto di più lontano un liberale possa immaginare. Allora, la Sicilia è vero che è un paese strano, è una regione che fa a sé, ma l'idea di poter mettere dal liberale di Forza Italia, se ce n'è qualcuno, al cattolico, diciamo, consociativo, all'ex fascista Granata, al destro musumeci, insomma è una cosa che mi fa veramente venire. Il volta stomaco. Fabio Granata, il compagno di Fini, quello che voleva lo Jussoli, ci ricorda Massimo Chiarella. Fabio Granata, questo potrebbe essere candidato del centrodestra in Sicilia. E quando io dico molto modestamente se il centrodestra pensa di vincere con il Granata, con questa gente qua, dove andiamo? Una volta che la destra dovesse vincere, dove va la destra con Granata? Io ve la dico molto francamente, tra Granata, candidato della destra, e un liberal nella sinistra, non ho un dubbio, quella non è destra quella di Granata, quello è il peggio che ci sia della cultura della destra sociale esistente in Italia. Tra l'altro anche un grande mareducato, questo conta sempre. Grande notizia, nel senso che è totalmente nuova rispetto a quello che uno si può immaginare, il sindaco lavorista di Londra, Cannes, decide di mettere fuori legge Uber. Gran casino, 40 mila, come si dice, autisti di Uber sul piede di guerra, 3 milioni e mezzo di clienti di Uber sul piede di guerra, in tutto il mondo sapete bene qual è il problema di Uber, i tassisti che non lo vogliono, le città che invece lo usano, i clienti che riescono ad averlo. Comunque sia, la questione oggi, secondo me, il commento più divertente sono 15 righe, non di più, 15 righe del Daily Mail, giornale popolare, tabloid, come si definisce in maniera sprezzante, conservatore inglese, che dice che ci sono due atteggiamenti controversi, abbiamo qualche dubbio su questa scelta del sindaco lavorista di Londra. Siamo favorevoli se effettivamente si cerca di migliorare il servizio di Uber, ci sono stati molti stupri di Uber, c'è stato un atteggiamento di queste multinazionali che non pagano le imposte, che non seguono le regole, che seguono gli inglesi nel fare questa attività, ma siamo anche molto contrari se il motivo per il quale Cannes chiude Uber è semplicemente per dare spazio alle soliti sindacati, corporazioni che noi liberali, dice il Daily Mail, non vogliamo. Insomma, secondo me, posizione seria, posto che le regole ci vogliono per tutti. Poi arriverò sulle regole, per esempio, di Airbnb, perché sono figlie dello stesso ragionamento. Anzi, ci vado subito. Airbnb fa ricorso al TAR. Airbnb, Silicon Valley, i geni del computer, i fenomeni che fanno le loro cose nel garage, vanno al TAR. E sapete perché? Perché l'Italia ha fatto una legge, secondo me, tutto sommato, molto sana. Il fisco italiano fa grandi casini, forse nella sua realizzazione ha combinato dei casini sicuramente, ma l'idea è che chiunque metta il proprio appartamento in affitto con Airbnb deve pagare la tassa che pagano tutti quelli che il cedolare secca sugli affitti, che è il 21%, non il 50%. Io odio le imposte, mi fanno schifo, ma se un'imposta del 20% sull'affitto non mi sembra una cosa non pagabile, anzi, mi sembra un'imposta equa. Bene, questa imposta equa, se io affitto su Airbnb, Airbnb deve fare da sostituto imposta e pagarla per me. Si tratta di 80 milioni di emersione dell'evasione che sono previsti dal decreto fiscale. Bene, si poteva far meglio, la burocrazia dà fastidio, ma Airbnb che non paga un euro di tasse, a cui è stato chiesto non di pagare le tasse d'Italia, ma di far sì che i suoi clienti le paghino, che fa ricorso al TAR e quindi fa una polemica così dura con l'Agenzia delle Entrate, per una volta, forse sto zitto, mi vergogno di dirlo, per una volta sto con il fisco italiano, per una volta sto con il fisco italiano e non sto con Airbnb, dovrebbero stare zitti e muti questi cazzo di imprenditori della Silicon Valley che non pagano un euro di tasse e fanno i ricorsi al TAR, va bene? Fanno i ricorsi al TAR, va bene, insomma, mi vergogno quasi di stare con l'Agenzia delle Entrate, perché, va beh, altra cosa, la May chiede due anni per preparare Londra a Brexit, l'unico commento che mi viene da fare, oggi ne parlano tutti quanti i giornali, l'unica cosa di questa cosa mi fa pensare è che gli inglesi sono sempre più simili agli italiani, cioè stanno facendo come gli inglesi ritraggono gli italiani, cioè stanno a ciurlare nel manico, non so come si dica in inglese, però ci avete capito il senso, hanno votato Brexit, fatela, basta un anno, due anni, tre anni, quattro anni, come si fa, hard Brexit, soft Brexit, ma sembra una roba che manco in Italia avremmo fatto in maniera così patetica. L'ultima notizia è un titolo del Corriere della Sera, 100 deputati di estrema destra, l'ombra sul Parlamento tedesco, anche il Sole 24 ore in maniera più sobria parla della possibilità che le elezioni tedesche del 24 settembre vinca, no vinca, vincerà la Merkel sicuramente, ma che ci sia una rappresentanza molto forte di un partito che si chiama AFP. Allora io mi chiedo, ma secondo voi il Corriere della Sera e il giornale della Confindustria, se ci fosse stato il rischio che in Germania avessero vinto i comunisti della Germania dell'Est, partito presente e avessero preso 40-50 seggi, avrebbero fatto il titolo 100 deputati di estrema sinistra, l'ombra sul Parlamento tedesco? No, perché la sinistra, c'è che varismo, il verdismo, l'ecologismo estremo, il luddismo, ai nostri giornalisti tutto sommato non dispiace. L'estrema destra è sempre nazista, l'estrema sinistra non è mai comunista, è una cosa straordinaria, che però anche questa è incredibile, ma che cacchio veramente vi lamentate? Vince la Merkel, i socialdemocratici saranno il secondo partito, ci sarà un partito che dice semplicemente che vuole più sicurezza e meno immigrati e questa è un'ombra sul Parlamento tedesco? Facciamo finta che siano dei nazisti, a Matrix l'abbiamo intervistata la leader dell'AFP e di nazista c'è molto poco? Beh, comunque questo è, come posso dirvi, il solito nostro tic, l'ombra sul Parlamento tedesco dei 100 deputati estrema destra. Noi ci vediamo domani con la zuppa di porro e ringrazio anzi tutti quanti non l'ho fatto che mi hanno straordinariamente seguito giovedì nonostante un'ora tardissima a Matrix, abbiamo fatto un risultato eccezionale e quei cretinetti di internet che hanno sempre il ditino puntato su di me e su di Matrix si sono dimenticati di dire che abbiamo battuto Vespa, ovviamente è sempre così, ma noi ce ne fottiamo 100 deputati d'estrema destra, l'ombra sul Parlamento tedesco. Ciao!